Musica 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 Sottolineare la teglia da questo lo sento, è l'unica cosa che sento. Possiamo dire che sta da un altro ritorno pubblico. Sono molto contento, mi sono divertito con voi, siete un bel ritorno. A santa, we hear the ends of our hearts, they are in time. We're watching clearance with the beat forever in our mind. It gives us hope, it gives us strength, you know, to carry on. Keep fighting till the end, and past the end you will be strong.